Con un piccolo cerchio e con un grande cerchio, che è lo stesso di quello che facciamo. Espirare, rilassarsi e abbassare, le tre parole che ti dice la Mound. Espirare, rilassarsi e abbassare. Piccolo cerchio, in alto, all'interno, in basso, all'esterno. Secondo cerchio, tutto grande. Vuole energia verso l'alto, quindi quando sono qua, il tuo palmo lo porto in alto. Poi vuole energia all'interno. Da notare che non faccio solo questo, ma faccio anche... Energia all'interno, eh sì. Poi, energia in basso. Guarda come è cambiato il palmo. Qui lavora, al di sopra del gomito lavora. Quindi, energia verso l'alto. Energia all'interno. Energia verso il basso. Ma Ong qui ci mette proprio il gomito. Ci mette proprio il gomito, eh. Così. A questo punto, energia verso l'esterno. Se tu hai già lavorato bene, un attimo andagli in là. In su, interno. In basso, esterno. In su, interno. In basso, esterno. In su, al centro, in basso. Guarda come mi siedo subito. Da questa parte. Secondo cerchio grande. Primo cerchio. Secondo cerchio grande. Il secondo cerchio porta proprio l'energia su di lui subito. È soprattutto utile per le cose che vengono dall'alto, eh. No, no, brutto il sasso se vuoi. No, no, brutto il sasso. Oh signore. Guarda che se venga a due mani è uguale. È uguale. Non rovinarmi. Con quei marcini, allora lì. Allora lì sei proprio un assassino di quelli che mi vogliono ammazzare. Porto su di lui. Su di suo piede, su di notte, su di suo piede. E poi arrivo. L'energia che torna su di lui nel grande cerchio. Trovo bene. Il sasso è andato benissimo, eh. È il concetto, è il concetto. Poi dopo, poi dopo. E' il concetto. Occhio. Uno potrebbe dire, ma nessuno ti attacca così. Errore. Forse è il contrario. Solo se fai combattimento sportivo o un combattimento regolamentato ti metti in guardia. Quando invece la cosa più comune è che un cristiano è il libro di mamma ombra che non è sbagliato. Hai capito? Quindi, è un peccato non pensare sempre a cose dritte e non pensare a colpi sporchi. Perché i colpi sporchi sono questi. Peccato. Anche tu con quel sassaccio. Guarda te. Questo se lo abbiamo anche nella sesta. Sì, abbiamo fatto tutte le applicazioni di questa sesta di nuovo. Guarda ce l'è, ero? Span! And it don't mean a thing if you don't subscribe to me.